Già vi ho parlato di Becky Holt, la donna che ad oggi, siamo a 1 maggio 2023, risulta essere la donna più tatuata di tutta la Gran Bretagna. Pensate infatti che il suo corpo è ricco di inchiostro, il 95% della sua pelle è ricoperta da tatuaggi di ogni grandezza, di ogni forma e di ogni dimensione. Tuttavia questa giovane donna è stata protagonista di qualcosa di brutto, qualcosa di terribile. Perché? In che senso? Beh, presto detto, in pratica non riesce ad entrare nei bar inglesi, non può entrare nei bar. Perché? Per quale motivo? Per via del suo aspetto, in quanto quasi tutti i baristi considerano la donna in questione una criminale, per colpa di tanti tatuaggi che ha sul corpo dipinti, disegnati. Non posso entrare nei bar, purtroppo mi considerano come una criminale. La donna ha lanciato lo sfogo pesante attraverso Instagram, i social di foto e video per eccellenza, manifestando apertamente la sua contrarietà, la sua grandissima tristezza, nel non poter entrare, nel non poter accedere proprio ai bar inglesi di Londra. Va bene? Il video termina qua. Come si deve fare? Ancora oggi purtroppo l'estetica viene vista al primo posto, di conseguenza io personalmente parlando mi libero e dico basta. Però, spero che qualcun altro finira alla mia voce. Dal vostro narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi e commentate. Ciao. Ciao.